Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in questo nuovo video Try On All Mamma mia È ghiacciato No, mamma mia Ho appena fatto la clip Dove vi ho indossato dei jeans Che vedrete, beh lì vi faccio comparire Praticamente All'inizio delle clip Ci ho freddo Me li ero dimenticati Che erano per fare il video Quindi me la sono presa comoda Gli ho lavati con le altre cose Ma, cioè In asciugatrice mi sono ricordata No, dovevo far vedere anche i jeans Con le perle Quindi sono andata dall'asciugatrice Gli ho presi, li ho indossati Mi sono entrati Normalmente Perché è bagnato, sapete che è un po' più tragica la cosa Però, ho le gambe ghiacciate Però Gli ho messi, vi ho fatto la clip Per ora vedrete Video in collaborazione con Dress Lily C'è un codice sconto per voi Del 20% Quindi ottimo Le cose che ho scelto questa volta Sono super soddisfatta La qualità È veramente top Ragazzi Ovviamente poi ci sono anche altri due Tra i on hold Però questo è il primo Sono contenta Alcune cose natalizie Alcune cose invece che si usano Tutti i giorni Allora iniziamo subito Vi lascio la clip Dei jeans Con le perle Perché li ho messi in asciugatrice Quindi non ve li posso far rivedere Perché Si vede visibilmente Anche che sono bagnate Perché Dal vivo Cioè da asciutti Sono più chiari Di come sembra Vi lascio la clip Ragazzi Lo sto facendo solo per voi Magli oppure Li tirati ora Dall'asciugatrice Li sto indossando bagnati Perché me ne ero dimenticata Che dovevo mettere anche questi Mamma mia Che freddo Freddissimo Ma sono bellissime ragazzi Sono cinque tasche Ovviamente poi Dopo che Non sono bagnati Sono comodi Non stanno stretti Perché vedete Cioè guardate Vanno bene Sono con questi inserti Con le perle Sono stupendi Io li amo Però Sto morendo di freddo Questo non vi faccio neanche Da clip A farli vedere Ve li faccio vedere così Quindi c'è anche Questo paio di jeans Con Le perle Ora li vado a risbattere In asciugatrice Ragazzi Visto Sono bellissimi A me piacciono tantissimo Poi Ho preso Ho preso Questo vestito Che è molto carino E infatti Poi ovviamente Indossato Lo vedrete meglio Eh Fatto così Con la manica Qui Col polsino Che finisce Svolazzante Ha la sua cinturetta In vita Questa qua E Ha quattro bottoni Sul davanti Maniche Che rimangono Le spalle Scoperte Così per intenderci Vedrete tutto indossato Quindi capirete meglio È molto bello Va A esaltare la figura Dietro è tutto nero Mi piace molto Ed è proprio fatto così Molto Molto bello ragazzi Adesso vabbè Qua è stropicciato Va dato un colpo di stiro Ovviamente Queste copelle Va stirato Però Non così Con la protezione Però sono Molto contenta Poi Sempre in tema Vestiti Ho preso Questo Che è bellissimo Ragazzi È fatto di un ottimo Tessuto Non è il solito Ehm Come si chiama Quello sintetico No È proprio Bello Questo cotone E qua Sulla parte davanti È tutto nero Tipo una maglia Dietro La cerniera Che arriva fino In fondo Però io non Lo infilo Senza La cerniera Ed è fatto così Sta molto bene Ehm Addosso E qua Parte la gonna Con queste cose Ehm Festoi natalizi Ehm C'è veramente Il pungitopo L'agrifoglio Le palle natalizie E c'è anche Coordinato Questo nastrino E raso Per farci il fiocchetto Che poi Lo vedrete indossato Io sinceramente Le preferisco senza Però Magari Farci Attaccarci un fiocco Nero Sul davanti Sta bene Però Non lo so Comunque vedrete Poi Poi Sempre a tema Natalizio Ho preso Questa maglietta Carinissima Pucciosa Allora È nera Sfondo nero Ha questo incrocio Profuma Profuma tantissimo Quindi Ve lo consiglio Come sito Perché Trovate un sacco Di cose Carine E sfiziose Ho preso Questa maglia Rossa Particolare La vedrete meglio Indossata Perché qua Davanti Ha un Incrocio Particolare Vedete E poi Il tessuto Praticamente Vabbè Le spalle Rimangono scoperte E il tessuto Vi faccio vedere Che è Doppio Qua davanti Fammi vedere Vedete davanti È doppio Quindi tiene anche Bel caldo Cioè Proprio Ho scelto dei capi Stavolta Pazzeschi Bellissimi Mi piacciono Sempre di più Dietro rossa Normale E nulla Poi la vedrete Poi c'è questa qua Che è troppo bella Come la mettete Cioè Brillate Che è una cosa Pazzesca Ma il bello Non è solamente Qua sul davanti Con questo Doppio scollo Cioè Guardate Tutta la maglia Questo grigio Melange Ha questo filo In lurex Che proprio Vi fa brillare E poi La particolarità Di queste maniche È troppo bella Ha Praticamente Tre pezzi Volante È È bellissima Rifinita Strabene Ma poi c'è Brillate 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 Quando la indosso Si vedono proprio Che era giorno Proprio Sbricicavo Che era una meraviglia Veramente Poi Questo vestito Io lo Adoro Perché È in tartan Questa maglia È un bel cotone Non è Veramente È un cotone Qua ha le tasche Che sono vere Qui sul davanti Che ovviamente Potete Cioè Ovviamente Se potete Se potete Metterci qualcosa Non mettete Sennò Non ci mettete nulla Il bottone Qui è finto Perché comunque Si apre così La tasca Semplicemente Anche di qua E I bottoni Sono Sono finti E lo scollo È normale Poi c'è il colletto Questo tartan Con questa manica lunga Ma la particolarità Ragazzi Inizia qua Con Questa gonna In eco Pelle È qualcosa Di stupendo Ragazzi Lavata E asciugata Lavata e lavatrice Asciugata e in asciugatrice Non si è rovinata Per niente È Bellissima Veramente Questo vestito È stupendo Poi Finalmente Ragazzi Era una vita Che volevo Un cappotto Rosso Ma bello Pesante Questo è proprio Fatto Vedete Di cappotto Pesante Non è leggerino Fatto di panno Qualcosa No 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 È bellissimo Qua c'ha Questa specie Di pellicciotto Nero Ovviamente Ecco pelo Bellissimo Ragazzi Qua le maniche Sono rifinite Anche loro Con la stessa cosa Ma hanno questo bel pezzo Fatto così È molto bello Questo rosso Con queste fantasie Che sono praticamente Non cucite Ma sono proprio Fanno parte integrante Della stoffa È tutt'uno Proprio È fatto Cioè Non so come spiegarlo Non è cucito Neanche stampato È proprio È un tutt'uno Con la stoffa Stesso materiale È bello Pesante È foderato Dentro Ve lo faccio vedere Foderato Fatto stra bene Ragazzi E i bottoni Sono questi Neri 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 Allora Nel lavaggio Tra questi Tra questi due Ho detto Li prendo tutti Perché sono bellissimi Questo è fatto diverso Dall'altro Perché Allora Questo è più pesantino Questa camicia È fatta un po' più pesante E tiene veramente caldo Poi È particolare Perché Viene come vedete Con queste bretelle Molto carino Questo qua si può allacciare Fino in alto Io penso che i bottoni Li cambierò Li prenderò neri Perché penso che questo colore Non c'entri molto Ma sono piccolette Insomma dettagli Si può tenere anche così Che non è che sta male Però Questo qua È veramente carino Perché vedete appunto Viene con questa specie Di salopette Ma non è staccabile Cioè È proprio È integrata Sono queste bretelle Così Qui c'è tutta una fascia A livello vita Che secondo me Va Poi me lo avrete indossato Mi sta molto bene E poi c'è questa gonna Scampanata È molto bello E' È molto bello Ultimo capo Che vi mostro È questo qua Ragazzi Che praticamente Sono quei pantaloni Sapete che si usano Adesso a vita alta E poi stringi Stringi Così Qua infatti C'è la sua cintura Attaccata Che si fa Il nodo Per Andare a enfatizzare Il punto vita A me Vanno un po' Più in alto Però basta abbassarli Però basta abbassarli Sono veramente belli Sono belli caldi E hanno questo Questa fantasia Tartana Bianca e nera E mi piace Tantissimo Questo È questo qua Così Non ha tasche Ma è fatto Così Con questa Tipologia Insomma Molto bello Mi piace tanto Anche Il frufru Che rimane Qua in alto Bene Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Fatemi sapere Qual è il capo Che vi è piaciuto Di più Quale secondo Voi mi sta meglio E nulla Io vi mando Un bacione Grazie a tutti i nuovi iscritti Agli iscritti di sempre E Adesso Mi vado a guardare Insieme a mio marito La regina del sud Che è un nuovo Telefilm Che ci stiamo guardando Su netflix Perché ci chiedete Sempre che Telefilm guardiamo Stiamo guardando Questo al momento E siamo arrivati Alla terza puntata Della prima stagione Ci sono quattro stagioni Ed è molto bello Ve lo consiglio Bellissimo E niente ragazzi Io Vi lascio tutti i link Qua nell'info box Se volete vedere qualcosa Cliccate sul link Che vi riporta Al Appunto Al Al capo Così vedete che Tra il sito E di persona Non cambia niente Anzi Di persona Non sono ancora Più belle Le cose Come regolarsi Con le taglie Semplicemente C'è la tabella Ed è Perfetta Non ci sono Spese di dogana La roba Arriva Poi scelite voi La tipologia Di spedizione Arriva Entro due settimane Quindi Super top E se scelete La spedizione Quella Più veloce Vi arriva Prima Ancora E appunto Non ci sono Spese di dogana Vi ricordo Il codice sconto Che troverete Qua sotto Nella info box Del 20% Più gli sconti Che ci sono Farete dei grandissimi Affari Bene ragazzi Io vi ho detto tutto Grazie ancora Dress Lily E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao